Il capo dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Filippo Lazzarini, spera che la Commissione europea continui a finanziare le sue operazioni. Durante la sua visita a Bruxelles lunedì, Lazzarini ha affrontato le preoccupazioni della Commissione riguardo le presunte infiltrazioni di Hamas nell'agenzia, che hanno spinto l'Unione ad avviare una revisione dei finanziamenti. L'Urwa sta operando un'indagine interna per verificare se alcuni dei suoi dipendenti abbiano effettivamente preso parte agli attacchi del 7 ottobre, come denunciato da Tel Aviv. Più di una dozzina di paesi, tra cui diversi stati del blocco, hanno già sospeso i finanziamenti per un valore di circa 420 milioni di euro. La contribuzione del Commissione è assolutamente critica, perché sono 82 milioni di dollari aspettati all'inizio di marzo. Se avessi avuto nessuna pausa di fondamentale, il nostro cash flow sarebbe stato buono fino a l'inizio di giulio. Il nostro cash flow soffre come ora, come nel mese di marzo. Sarebbe negativo, aspettando 30-40 milioni di marzo, ma poi sarebbe significativamente negativo come dal aprile. Le conclusioni preliminari dell'indagine indipendente potrebbero essere rese note per la fine di marzo, ma le valutazioni finali richiederanno più tempo. Sulla base dei risultati dell'indagine, i 27 paesi dovranno decidere sull'erogazione dei fondi comunitari all'agenzia. Ma il capo della politica estera di Bruxelles, Joseph Borrej, ha fatto intendere che i finanziamenti fluiranno come previsto, perché l'urwa è insostituibile. La Zarinia ha detto che le operazioni di Israele a Rafa, vicino al confine con l'Egitto, stanno già disturbando l'ingresso degli aiuti umanitari e che i convogli vengono continuamente attaccati, anche per la mancanza di protezione della polizia locale. E per la prima volta ha dichiarato che non si dimetterà, nonostante le richieste insistenti del governo israeliano.